Ciao bimbi e benvenuti a un nuovo lavoretto creativo. Oggi vi mostrerò come creare una trottola con un bicchiere. Ci serviranno un bicchiere di carta, tratto pennero, matita, righello, farbici dalla punta arrotondata, stuzzicadente e pennarelli colorati. Iniziamo a prendere il nostro bicchiere e lo dividiamo in sei parti. Adesso andiamo a tagliare in corrispondenza dei trattini che abbiamo fatto fino alla fine lasciando un pezzettino. A questo punto apriamo verso l'esterno andiamo ad arrotondare le estremità adesso andiamo a dividere il centro in più spicchi andiamo a colorare tutto con i pennarelli e poiungi con i pennarelli che abbiamo fatto fino alle nuovezza che io e le mettiamo le sue Grazie a tutti. A questo punto prendiamo il tratto pen nero e andiamo a definire le righe all'interno. Adesso prendiamo il nostro stuzzicadente e lo andiamo a infilare al centro della nostra trottola. Se vedete che il bastoncino non resta fermo, vi do un consiglio. Possiamo bloccarlo con un pochino di colla a caldo. Una volta messa la colla a caldo per fermare lo stuzzicadente, avremo il nostro risultato finale. Grazie a tutti.